Il prossimo invito, sempre per andare un po' più in profondità rispetto a cosa si nasconde davvero dietro la nostra percezione dell'abbondanza e della ricchezza, vi chiedo di fare insieme a me quest'altra piccola esplorazione, quest'altro piccolo esercizio. Anche in questo caso vi invito a prendere un foglio bianco ed una penna e vi invito a scrivere come prima parte del lavoro questa frase, io ho il diritto di essere felice. Iniziate a scrivere su questo foglio, io ho il diritto di essere felice e continuate, io ho il diritto di essere felice. Quindi continuate a scrivere ininterrottamente su questo foglio questa frase. L'intento di questo lavoro è sentire, rimanere profondamente in ascolto di tutto quello che si muove dentro di voi, mentre riempite totalmente questo foglio bianco con questa frase. Fate emergere tutto quello che vuole emergere, restate solamente vigili, testimoni, attenti e presenti di quello che si muove dentro. E quando avrete terminato di riempire tutta la pagina senza interruzioni? Allora potete chiudere gli occhi e rimanere un attimo in ascolto di ciò che si è mosso e di ciò che vuole ancora essere messo a fuoco. E a questo punto potete prendere un altro foglio e scrivere le sensazioni più forti, se sono emerse delle immagini, dei ricordi, qualsiasi feedback sentiate possa essere utile per andare più in profondità su questa esplorazione. E anche qui vi invito a postare la foto del lavoro che avete appena fatto e le eventuali domande e chiarimenti su ciò che è emerso in questa esplorazione. Grazie. Grazie.